Carolina, 4 anni di Bundesliga e ora il ritorno nel campionato italiano. Sì, sono stati 4 anni di esperienza bellissima, ho imparato tanto a livello fisico, tecnico ma anche di mentalità in generale e adesso c'è il ritorno in Italia. Quali prospettive per questa nuova avventura a Verona? I progetti combaciano i miei con quelli della società, siamo una delle potenze nel campionato più interessanti e cercheremo di raggiungere il massimo senza porci limiti in generale.